Dopo la fine di, Uomini e Donne, i follower di Ida Platano, notano alcuni particolari su Instagram in riferimento all'ex Riccardo Guarnieri L'edizione di, Uomini e Donne, si è conclusa alla fine del mese di maggio Per circa tre mesi, il programma si prenderà una momento di pausa, prima di ricominciare a settembre Come di consueto, però, le riprese delle nuove puntate del dating show di Canale 5 inizieranno nuovamente a partire dalla fine di agosto Il pubblico appassionato si chiede quali cambiamenti sono previsti e chi saranno i nuovi tronisti Con la fine della stagione, si è chiusa anche definitivamente l'esperienza di Ida Platano come tronista La famosa dama di Brescia è una figura storica della trasmissione Per diversi anni, infatti, Ida Platano ha preso parte al, Trono Over, alla ricerca dell'amore e dell'uomo della propria vita Tuttavia, le frequentazioni e le relazioni più importanti, nate all'interno dello studio, si sono concluse sempre allo stesso modo Ida si ritrovava da sola e senza cavaliere Questo è quello che è successo alla fine del suo percorso da tronista Ida è rimasta senza corteggiatori, eliminando definitivamente Mario Cusitore, e si è vista costretta ad abbandonare il trono In questo momento, pare non ci sia stato alcun riavvicinamento tra Mario ed Ida Tuttavia, altre notizie rivelano che quasi sicuramente la dama di Brescia tornerà a sedersi nel parterre femminile all'inizio della prossima stagione Molti fan e appassionati hanno scoperto un'importante rivelazione che riguarderebbe proprio Ida e lo storico, ex, Riccardo Guarnieri Ma che cosa è successo in particolare? Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Ritorno di fiamma? Nel corso del tempo, moltissimi appassionati di, uomini e donne, hanno sperato Ida Platano e Riccardo Guarnieri potessero ritornare assieme Tuttavia, questo lieto fine non è mai capitato, fino ad ora Qualche giorno fa, infatti, i follower della dama di Brescia hanno notato qualcosa di veramente particolare nel suo profilo Instagram Ida Platano ha fatto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta e potrebbe aver riacceso la speranza per un possibile riavvicinamento con Riccardo Ma sarà davvero così? Recentemente, gli esperti di gossip più attenti hanno osservato come Ida Platano abbia iniziato a seguire un profilo Instagram davvero particolare Ma di che cosa si tratta e che cosa c'entra con Riccardo Guarnieri? Il profilo Instagram in questione è dedicata proprio alla love story che è nata tra Ida e Riccardo proprio all'interno dello studio di, uomini e donne Tuttavia, nonostante il desiderio dei fan di rivederli assieme, purtroppo pare che Riccardo sia felicemente fidanzato da qualche mese Tuttavia, nonostante il desiderio dei fan di rivedere